Grazie 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 Abbiamo presentato la serenata adesso torniamo alle pizziche io trovo molto giusto che vengano in Salento tanti ragazzi e meno a divertirsi a voler ballare però questa terra ha prodotto pure delle canzoni delle serenate non stavano sempre a ballare credete qualche volta credete mi andavano pure a lavorare. Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.